Salve a tutti, sono Blasphemy e siamo qui con la nostra rubrica di gameplay dedicata al Flash Game. Oggi vi presento un gioco della Nitrome Icebreaker, eccolo. Eccoci qua, bene, iniziamo subito, come vedete questa è la schermata iniziale. Come vedete io non ho ancora fatto su questo computer il gioco perché in un altro computer l'ho già finito. Quindi adesso inizieremo, andremo avanti pian pianino e lo completerò insieme a voi. Oggi per mostrarvelo facciamo soltanto i primi 5 livelli, questo è il primo. E il gioco consiste nel tagliare il ghiaccio in cui sono impregionati i piccoli vichinghi in maniera che il cubo di ghiaccio cada sulla nave insieme al capo vichingo. Come vedete sto tagliando il ghiaccio che scivola e arriva sulla nave e il capo vichingo lo rompe. Come vedete ho tagliato anche il cubo di ghiaccio una volta sulla nave perché il capo vichingo non riesce a rompere pezzi di ghiaccio troppo grandi. Quindi se tagliate un pezzo di ghiaccio troppo grande che arriva sulla nave dovete frammentarlo in maniera che i vichinghi riescano ad essere liberati. Nel momento in cui tutti i vichinghi che ci sono nel livello toccano la barca il livello finisce e si passa al successivo. In basso a destra potete vedere quanti vichinghi ci sono nella mappa e se non li vedete nella schermata potete controllare nella mappa in alto a sinistra i puntini gialli dove sono. Questo livello, siamo già al terzo livello, è un livello comunque semplice ma che come i primi, diciamo i primi otto vi insegnano un po' le modalità in cui si possono liberare i vichinghi. Ora come avete visto non ho tagliato di netto, ho adesso provato a tagliare il ghiaccio generale per mostrarvi che non si riesce a tagliare il ghiaccio e soprattutto non si riesce a tagliare il ghiaccio dove ci sono i vichinghi. Bisogna tagliare diciamo da spigolo a spigolo e ovviamente il ghiaccio dove c'è il vichingo non si può tagliare perché altrimenti si ucciderebbe e non sarebbe una bella cosa. Ora il capo vichingo, minchia che culo, stava per volare fuori, ci è andata bene, andiamo avanti. Dopodiché adesso vedete ho creato una slitta in maniera che il vichingo possa scivolare, tagliamo il pezzo di ghiaccio finché ovviamente non si stacca e il vichingo scivola comodamente facendosi il suo giro di snowboard fino alla nave. Arriva, ora il capo vichingo spaccherà il ghiaccio, il vichingo tocca terra e via così. Next level. Bene, livello 4, abbiamo un paio di vichinghi sospesi per aria, si taglia, i vichinghi cadono e rompe. Il gioco è semplice come modalità, non ci sono cose particolari, andando avanti diventa un po' più complicato dal punto di vista della strategia per far riuscire ad arrivare i pezzi di ghiaccio con dentro il vichingo sulla nave, diventa difficile. Ora frammentiamo il cubo di ghiaccio gigante perché non lo taglierà mai e facciamo liberare i piccoli vichinghi. Più avanti non ci sarà soltanto il ghiaccio, come vedrete nei prossimi video troveremo delle rune e via dicendo. Comunque per questo video direi che è tutto, questo è il quinto livello, da Blasphemy un saluto, spero di ritrovarvi presto su questo canale, mettete mi piace, condividete il video e iscrivetevi al canale. Ciao! Grazie a tutti!